Reato derubricato da estorsione aggravata a violenza privata e pena dimezzata da 4 anni e 8 mesi a 2 anni e 2 mesi di reclusione per Savino Parisi, il boss del quartiere Iapigia. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Bari rivedendo la sentenza di primo grado emessa a luglio 2013 al termine di un processo con rito abbreviato. I fatti contestati a Savinuccio risalgono a marzo 2009. Secondo l'accusa il boss sarebbe intervenuto per mettere fine alle richieste di danaro che durante la sua detenzione due pregiudicati affiliati al suo clan avevano fatto a due imprenditori. Per quelle estorsioni Savinuccio avrebbe ricevuto gioielli per un valore di 100.000 euro. La denuncia da parte degli imprenditori che si trovano in una località protetta perché testimoni di giustizia diede il via all'indagine della DDA che il 30 maggio 2013 portò all'arresto di 11 presunti affiliate al clan Parisi con le accuse di usura ed estorsioni. Attualmente a processo con rito ordinario davanti al Tribunale di Bari. Nell'ambito di questa vicenda Savinuccio è in carcere dal 20 dicembre 2012.